Noi votiamo le mozioni che riportino gli italiani a votare, a sperare, a cambiare perché le tante promesse di Renzi si sono ridotte agli 80 euro regalati un po' di là che però non sono serviti a nulla. I dati economici sono devastanti, la disoccupazione è tornata a crescere, la pressione fiscale è tornata a crescere, l'immigrazione è totalmente fuori controllo, se a questo ci aggiungiamo indagini, dimissioni, arresti, intercettazioni, penso che neanche ai tempi della fine dell'ultimo governo di Berlusconi si fosse arrivato a un tale livello di nulla come l'ultimo Renzi che ormai è arrivato agli sgocci. Il caso Regeni, come il caso Immigrazione, come il caso Marot e come il caso di un re che viene qua e manco ti stringe la mano e ti guarda con un po' di schifo, mi dicono che in politica estera Renzi è lo zero totale.